Ci troviamo alla scuola primaria Chiara Lubici di Pesaro, una delle cinque scuole della provincia di Pesaro e Urbino che ha ricevuto un premio di 2.500 euro da investire in materiale didattico, premio consegnato dal gruppo ERA nell'ambito del concorso Digi e Lode. Assieme alla scuola primaria Lubici hanno beneficiato a Pesaro di questo premio anche la scuola di Villa San Martino San Giovanni Bosco e la secondaria di primo grado Dante Alighieri. A Fermignano è stata premiata la secondaria di primo grado Donato Bramante e a Peglio la primaria Urbania. 12.500 euro dunque complessivamente consegnati alle scuole della provincia di Pesaro nell'ambito del progetto DIRA, Digi e Lode. Un progetto nato in Emilia Romagna nel 2017 che dalla scorsa edizione conclusasi il 31 maggio è stato esteso anche alle Marche e all'Abruzzo. 10 le scuole premiate tra Marche e Abruzzo, ben la metà proprio nella provincia di Pesaro e Urbino. Con la premiazione di 20 scuole si chiude il progetto DIGE e Lode nella sua terza edizione. Edizione che ha visto complessivamente erogare alle scuole del nostro territorio 100.000 euro di contributi ed è un progetto che nasce tre anni fa con l'obiettivo di migliorare la didattica digitale delle scuole attraverso cosa? Attraverso lo stimolo dei comportamenti digitali dei nostri clienti. Quali sono questi comportamenti? L'invio elettronico della bolletta, piuttosto che la gestione delle forniture attraverso l'app o i servizi online, la richiesta del pagamento attraverso la domicilazione bancaria, la comunicazione dell'autolattura attraverso l'app. Tutti questi comportamenti aiutano a scegliere le scuole del proprio territorio che riceveranno poi il contributo dei 2.500 euro da spendere appunto per la digitalizzazione. È un progetto che ha portato grandi risultati perché nell'arco di questi tre anni abbiamo erogato alle scuole oltre 300.000 euro di contributi. I nostri clienti hanno scelto i servizi digitali per circa un terzo del loro numero e oltre la metà dei clienti ha scelto di pagare attraverso la domicilazione bancaria. Quindi un risultato importante e proprio per questo motivo abbiamo deciso di lanciare la quarta edizione di questo progetto che accompagnerà il prossimo anno scolastico. Nel caso della scuola Chiara, l'Ubic a premiare la scuola sono stati di fatto i genitori dei ragazzi clienti di ERA. I responsabili sono stati i genitori che hanno utilizzato i servizi di ERA e hanno scelto noi come scuola a cui dare i punti che mettevate a disposizione. E quindi soprattutto ringrazio i genitori e ci fa anche piacere pensare che comunque con il nostro modo di essere scuola e anche istituto abbiamo avuto insomma la loro fiducia. Come viene investito questo premio? Allora questo premio dicevo una mano dal cielo perché abbiamo comperato cinque computer. Noi abbiamo sempre dato come istituto proprio molta importanza alla didattica digitale come valore aggiunto alla didattica classica. In questo periodo e anche nello scorso anno è diventata importantissima perché ci ha permesso di mantenere un rapporto importante con gli alunni che erano a casa. Abbiamo dato anche computer incomodato d'uso ai genitori che ne avevano bisogno e quindi ben venga ecco noi contentissimi.